Ciao ragazzi, è partito il primo torneo clan contro clan. Se volete dei consigli su come fare più punti o se non avete propriamente capito come funzionano alcune delle regole, questo video fa per voi. Vi darò una serie di consigli su come riuscire ad accumulare più punti. Allora, innanzitutto partiamo col dire che questo è stato un torneo di test a cui stanno partecipando soltanto i primi 1700 clan nella classifica globale. Quindi il mio ne faceva parte, noi siamo entro i 1000. A proposito, se qualcuno volesse entrare abbiamo due posti a disposizione, richiediamo almeno 2,5 milioni di potenza giocatore e che è riuscita a fare abbastanza danni al Bostel clan. Nel dubbio, in caso, contattatemi su Discord e qua trovate il mio contatto. Se il vostro clan non fa parte al momento di questo torneo, dovreste riuscire comunque a partecipare al primo vero torneo clan contro clan che dovrebbe essere attivo dalla settimana prossima. Non sappiamo ancora se questi tornei saranno a cadenza settimanale, in caso vi terrò aggiornati. Parliamo adesso del matchmaking. All'inizio di un torneo veniamo messi contro un altro clan, che è un clan scelto in base alla nostra posizione in classifica. Ieri erano proprio molto vicini a noi in classifica, erano tipo 961 contro 963, quindi siamo là, oggi sono scesi un po' loro. Però comunque è questo il modo in cui veniamo messi contro un altro clan, quindi non possiamo trovarci contro un clan che è molto molto diverso da noi. Anche se noi li stiamo distruggendo, stiamo farmando molto più di loro, stiamo svolgendo le varie attività molto meglio dei nostri avversari. Dovremmo appunto essere messi contro un altro clan che dovrebbe riuscire a fare circa i nostri stessi punti. Come si accumulano punti? Facendo tutta una serie di attività che sono scritte qui in basso. Quindi non so, fare guerra di fazione, arena, eccetera eccetera. Parleremo meglio dei punti nella seconda parte del video. Intanto partiamo col dire che al vincitore tra i due clan andranno questi accessori esclusivi. Saranno accessori che non è possibile trovare in nessun altro posto nel gioco e andranno appunto soltanto al vincitore. Quanti ne vanno? Dipende da quanto bene riusciamo a battere i nostri avversari. Al momento soltanto tre, se riusciamo proprio a fare una vittoria schiacciante, allora potremmo arrivare a vincerne quattro. Non ho ancora ben capito se qualche accessorio è possibile che lo vinca anche il clan perdente, se queste due barre sono molto simili tra loro diciamo. Però poi ci sono le ricompense tappa, che sono i premi che si possono vincere indipendentemente dal fatto che si è vincitori o sconfitti alla fine del torneo. Infatti io tutti questi premi li ho già raccolti. E come si accumulano? Facendo punti nel torneo. Non facendo punti col singolo giocatore, ma tutto il clan. Se il clan arriva a fare in totale un certo numero di punti, si sbloccano man mano tutti questi premi delle tappe. Finché non si arriva a sbloccare gli ultimi, che sono quelli della decima tappa. Ok, diciamo che i premi me li aspettavo molto più alti rispetto a come ci avevano mostrato nel video di anteprima dei tornei clan contro clan. Però è da considerare il fatto che noi siamo nello stadio 1. Vedete questa serie di stadi? È come se fossero delle leghe di calcio, non so, c'è la serie A, la serie B, eccetera eccetera. Noi siamo nell'ultima lega, non perché siamo così deboli come clan, ma per la scelta che hanno fatto soltanto per questo particolare torneo di test. Infatti di tutti e 1700 i clan che hanno partecipato al primo torneo, più di 1600 si trovano nello stadio 1. E distribuiti negli stadi dal 2 al 6 ci sono meno di 100 clan. Praticamente, quindi pochissimi. Ovviamente più si va avanti con gli stadi e maggiori sono i premi. Anche se, devo dire, mi aspettavo qualcosa di meglio che dei premi del genere e basta per i tornei che sono in cima alla classifica. Comunque ci hanno detto che per i tornei, quindi dal primo torneo ufficiale in poi, perché questo è soltanto un test, i clan verranno distribuiti più equamente tra i vari stadi. Non si è ancora ben capito quanti clan andranno in ogni stadio, però comunque vi terrò aggiornati anche su questo. Saltiamo un attimo la pagina degli obiettivi, ne parleremo dopo. Parliamo dei membri. Qua possiamo vedere, membro per membro, quanti dei nostri compagni di clan stanno partecipando effettivamente al torneo. E magari si riesce a beccare quei furbetti, scherzo eh ragazzi, tra quelli che magari partecipano molto meno e magari li si può invitare ad aiutare di più il clan. Devo fare dei sinceri complimenti ai miei compagni di clan che si stanno impegnando anche molto più di me, devo dire, quindi grandi ragazzi, continuiamo così. Poi passiamo quindi agli obiettivi, che è la pagina che ci dice quanti punti prendiamo per ogni singola attività. Io vorrei iniziare parlando delle roccaforti e il mio consiglio è sempre quello, all'inizio di ogni torneo, perché non so se i punti saranno sempre questi o se cambieranno di torneo in torneo, occhio, andate sempre qua e guardate quanti punti vi vengono dati se per esempio completate la fase 20 della Tana del Drago, ci dà 40 punti. Se andiamo a vedere tutte le altre roccaforti, ci danno tutte 100 punti, diciamo quelle più importanti. Quindi, ragazzi, in questi casi, occhio a non farmare così tanto Drago, perché se farmate il resto, prendete più del doppio dei punti. Ora, non so se hanno deciso di fare questa cosa perché hanno fatto partire anche il torneo del Drago, quindi se uno vuole partecipare al torneo del Drago in questo modo prende meno punti, sono furpi, quelli della Plarium. Però guardate di torneo in torneo se questo numeretto cambia, perché mi sembra veramente ingiusto che il Drago, che, ok, è la roccaforte più farmata, però meno della metà dei punti delle altre roccaforti, mi sembra veramente, veramente poco. All'inizio del torneo vi spunteranno delle barre così anche sulle roccaforti principali, dove vi dice 2 per punti, limite 400. Che cosa significa? Dal video che ci avevano mostrato sui tornei clan contro clan, sembrava come se ogni giocatore avesse un certo limite di punti, oltre il quale non avesse più senso continuare a farmare quella roccaforte perché non avrebbe più accumulato dei punti. Invece no, invece ho scoperto che questa cosa significa che finché non raggiungiamo i 400 punti al Minotauro, ogni run che facciamo ci darà il doppio dei punti, quindi anziché darcene 20 ce ne darà 40. Ma appena guadagneremo noi, quindi come singolo giocatore, 400 punti sul Minotauro, il 2 per punti qua sparirà, questa barra, e inizieremo a guadagnarne 20. Infatti io all'inizio qua avevo in ognuna di queste roccaforti il 2 per sui punti, quindi per le prime tipo 5 roccaforti o qualcosa del genere io guadagnavo il doppio dei punti ed è per questo motivo che ho fatto anche Golem Glaciale, perché nelle mie prime 5 run di Golem Glaciale ho guadagnato 200 punti per ogni run, che devo dire è parecchio, quindi ragazzi lo so che Golem Glaciale non dà dei premi così alti, però sacrificatevi diciamo se volete far fare più punti al vostro clan e fate 5 run e vi prendete 1000 punti, così. Parliamo adesso dei modi migliori che ho trovato, dei modi diciamo più semplici che ho trovato per fare punti in questi tornei. Partiamo dagli obiettivi campione e io vi direi guardate qua, quando parla di elevazione di campioni, quando iniziamo a elevare i leggendari ma anche con gli epici, si inizia a parlare di punti anche molto elevati, quindi se avete dei leggendari che non avete ancora elevato, quindi non avete ancora dato delle pozioni per elevarli, venite e andate subito nella taverna ed elevateli immediatamente perché sono veramente tanti punti. Quindi anche riguardo alle destrezze dei campioni uno pensa, ok, i tomi leggendari ci sta, 3000 punti tantissimo, ma se uno ci fa caso, guardate quanti punti si danno sia per i tomi rari che per i tomi epici, ma in particolare per quelli rari perché io ho sentito diversi content creator lamentarsi del fatto che i punti che vengono dati in base ai tomi rari sono veramente tanti perché qualcuno ha fatto veramente veramente tanti punti prendendo rari a caso che tanto non userà, vedete io ho già un farmacista a livello 60, dandogli i tomi e facendo tanti tanti punti, quindi questa cosa non so se la nerferanno, però nei prossimi tornei se ancora questo punteggio resterà uguale, usate anche i tomi rari, io ormai non me ne faccio più niente dei tomi rari, magari se ci sono altri giocatori in endgame come me che non sanno più che farsene perché non buildano più così tanti rari, bruciateveli così se volete far fare più punti al vostro clan. Ma una cosa importante, che hanno detto che la sistemeranno però intanto ve la dico, non so quando la sistemeranno, al momento c'è un bug riguardo i tomi, se voi date più di un tomo alla volta, come punteggio vi darà il punteggio di un tomo, cioè come se aveste messo un solo tomo anziché 5. Quindi voi, se volete evitare questo bug, date un tomo alla volta ai vostri campioni, quindi date un tomo e fate potenzia, poi prendete un altro tomo, glielo date, fate potenzia, eccetera, eccetera, così vi darà 500 punti per ogni tomo raro e proporzionalmente anche con gli altri tipi di tomi. Poi ragazzi guardate i bonus della sala maggiore, guardate quanti punti si danno per salire un bonus della sala maggiore a livello 10, a livello 9 anche, a livello 8. Io purtroppo ne avevo portato su uno subito prima dell'inizio dei tornei clan contro clan, sono ancora 436, magari me li conservo da ora in poi e aspetto dei tornei per far salire questi numeretti. Tanto dare un potenziamento in più, aumentiamo del 2%, una quantità non è così tanto, possiamo anche tenercela tipo per una settimana in più, questa quantità di medaglie, e poi usarla in corrispondenza di un torneo clan contro clan. Questo ve lo consiglio molto perché sono veramente tanti tanti punti per un click. Poi un'altra attività che ho notato che dà una vagonata di punti sono le guerre di fazione, in particolare la differenza abissale che c'è tra la fase 20, che dà 500 punti, e la fase 21, che dà 2000 punti. Ieri c'erano le guerre di fazione dei barbari, io purtroppo non riesco a fare in automatico il boss finale con tutte le mie fazioni, però con i barbari riesco anche 7 minuti o poco più, quindi mi sono fatto nel giro di 20 minuti 3 volte il boss finale e ho fatto 6000 punti così. Quindi vi consiglio anche di ragionare in termini di boss finale, per esempio sui demoniaci io ce la farei in automatico, questo è fatto totalmente in automatico, ma ci metterei 22 minuti. Magari ora col team che ho attualmente, che ho inserito Candrafono recentemente, riuscirei a fare meglio, però non so quanto meglio, non so quanto mi convenga fare 15-20 minuti di run per fare 2000 punti, mi converrebbe magari usare lo stesso tempo per fare altro e guadagnare punti in un altro modo. Parliamo adesso dell'arena, anche l'arena dà veramente tanti punti, questi sono in realtà per l'arena classica, da quello che mi è sembrato di vedere, sono 20 punti per ogni medaglia, quindi se noi andiamo in oro 4 a fare una partita e guadagniamo 4 medaglie per la vittoria, noi otteniamo ben 80 punti, quindi sono veramente parecchi. Se poi vogliamo parlare dell'arena squadre, i punti sono molti molti di più, mi è stato detto che per esempio ad argento 4, per ogni vittoria, cioè vittoria contando che vinciamo 3 partite su 3 di un'arena a squadre, si prendono ben 550 punti, mentre, io sono in oro 2 al momento, per una partita di oro 2, per una vittoria, si prendono ben 660 punti. Quindi veramente, veramente consigliata l'arena a squadre, soprattutto se riuscite a trovare degli avversari del genere. Poi in ordine passiamo agli obiettivi del boss del clan, noi abbiamo usato un piccolo trick per ottenere più punti, cioè siccome il torneo iniziava alle 14.30, ma il boss si resetta alle 12, e siccome questi punti vengono ottenuti proprio raccogliendo la cassa, non semplicemente facendo dei danni al boss del clan, allora noi come clan abbiamo deciso di ritardare il fatto di andare a recuperare le casse del boss del clan, dalle 12 alle 14.30. Quindi abbiamo tutti aspettato alle 14.30 senza attaccare il boss, senza riscattare alcuna cassa, abbiamo riscattato tutti le casse alle 14.30, abbiamo preso, diciamo, una marea di punti in più, perché siamo poco meno di 30, se ognuno ha preso una cassa trascendente, in realtà non tutti magari, però se si batte ultra incubo se ne prendono addirittura due, quindi siamo riusciti a prendere molti, molti punti, e quindi già portarci avanti rispetto ai nostri avversari. Quindi io vi consiglio il primo giorno del torneo, se anche i tornei successivi dovessero partire dopo che si resetta il boss del clan, aspettate che inizi il torneo, almeno soltanto per il primo giorno, e poi andate a riscattare le casse. Parliamo quindi dell'ultimo modo che secondo me è molto buono per fare punti, e cioè la forgia. Io l'ho da tempo snobbata la forgia, perché ci vuole un po' per creare i vari manufatti, poi per portarli su di livello, eccetera, eccetera. Però guardiamo qua, quanti punti ci vengono dati se creiamo per esempio un leggendario, molti più punti di un epico, ma anche già con gli epici, se facciamo crea, 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 sono già 400 punti se dovessimo prendere 4 epici. Quindi ragazzi, fate, andate nella forgia, iniziate a craftare tantissimi manufatti del set percezione, ne potrei fare tantissimi visto che non la uso praticamente mai, o anche per esempio quelli dei nuovi boss della torre sventura, io li sto creando sempre ogni giorno, fateli perché possono dare davvero tanti punti. Ovviamente, se potete, tenetevi questo amuleto grado e amuleto rarità per i set veramente utili, tipo quelli della torre sventura, io li sto usando in particolare per il guardiano, però li sto usando anche tipo per parata repentina o per percezione. Per gli altri, non so quanto senso possa avere, createli e basta se vi danno dei rari pazienze, se vi danno dei leggendari, molto meglio. Però ecco, centellinateli per i set veramente forti. Quindi, questi erano i miei consigli per i tornei clan contro clan, passiamo adesso all'argomento più atteso di questo video, che non sono i consigli sui tornei clan contro clan, ma è il giveaway di aprile. Siamo arrivati finalmente a quel momento in cui estrarremo 5 vincitori, ognuno di quali vincerà ben 540 gemme, l'estrazione sarà fatta in live venerdì sera, quando dovrebbe esserci, a momenti dovrebbe arrivare l'annuncio del 2x delle schegge blu, anzi, probabilmente quando io caricherò questo video ci sarà già stato. Quindi venerdì sera alle 21 noi saremo in live per aprire le schegge, prima dell'apertura schegge, estrarremo i 5 vincitori. Cosa dovete fare per partecipare al giveaway? Intanto iscrivervi al mio canale YouTube, poi andate qua nelle info del vostro account, prendeteli di giocatore, tranquilli, non è una password, infatti questo è il mio, ve lo mostro molto tranquillamente, fate copy ID e incollatelo nei commenti qui sotto al video, e scrivetemi magari una domanda che volete fare, se volete che io risponda a qualcosa di specifico, che vi serve per il gioco. Detto questo, grazie mille per aver guardato questo video, noi ci vediamo al prossimo video, alla prossima live su Raid. Ciao ragazzi, alla prossima! Grazie mille per aver guardato il video,